bella a tutti ragazzi e qua siamo DxD e siamo con un nuovo video su Team Fortress 2 insieme a Destroi 927, ciao ragazzi! Bella io sono la spia, se incontriamo Destroi ci fa solo un favore Ok cosa stai facendo? Eh mi sto sponando, sono spia anch'io Bella dove stai? Adesso che voglio cambiare l'arma principale non voglio essere più l'ambaccio, uso il diamo un bec che mi piace molto di più E ci faccio la mace Con il trutto un bar di fatto chiamare che lo dico io Aspetta un secondo che devi salire su che ci sono molto ricettivi pronti ad ammazzare E sono pronta ad ammazzarmi La bu... vabbè Cazzo mi hanno scavato madonna La padella Non mi sono tanto No mi hanno ucciso, non ci credo E allora mi sta scendendo tutto il palazzo tipo Aspetta che adesso, no adesso faccio il coso, il piro, il piroetta Sono curioso di vedere la tua visuale No adesso li trollo qua Tanto non riesci a trollarli, se ti travesti e sei su ti beccano Sanno che non sei tu perchè sono tutti la E se vedono il nome di una persona Il proprietario del nome C'è subito che sei nemico Mi ha preso una spia Ok, avete bisogno di messaggi un cecchino eh Oh Sam Matthew è una spia C'è una spia, c'è una spia che si chiama Sam Matthew E mi sa che adesso fa il culo all'anima C'è l'ha ucciso, non ci crede Quante imbranata sta gente Minchia Sam Matthew sta facendo un mutuo di Bill Provo il trucco Aspetta che devo ammazzare l'ingegnere che sta costruendo No cazzo mi ha sgamato Cazzo mi ha sgamato Mi hanno ucciso Ci stanno distruggendo Soldati in avvicinamento Anzi no Non entra come medico Io faccio il coso Il ciccione Io sono già ciccione E io mi sono travestita Cioè ci stanno distruggendo Un pochettino E mi uccide la spia Due spie ci sono Unisimo Unosic Unosic Dove Non ho capito C'è un genio E' un Brutto fastidio Cazzo quante spie Sono Aspetta Ma sono troppi Da facciamo il soldato Facciamo il soldato c'è stato massacrato e non volevo mettere in blu ci trasferiamo in blu domani sono soldati sono un po' per me ma cosa di parlo in casa ok ora aspira progetto la il medico niente facciare la linea ora adesso vado di dvd forza c'è di attacco vado con lo scout con la stella scala di test porto ok adesso vado a microlietto spalino per fuoco ho già fatto una tripla il tuo amato e sono insomma ma perchè mi ha pillato un tipo con la pala mi voleva tutto scavare ok ho capito io devo curarmi entro dentro tanto lo scout fa i doppi salti giustamente no non posso neanche quei doppi salti mi ha trollato il muro c'è meno distrutto io ho fatto due kill attenzione dietro è morto io voglio usare lo scout è devastante aiutare a girare come di paxeri con lo scout episodi di 20 mila minuti bella fa anima con i paxeri sei scout sud giusto qua ma di salto come la madonna non è Perché la madonna santa? No, 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 dettagli. Cioè, ma della serie il tipo sull'umore è perché c'è un medico dietro. Oh, che ne dici che io entro col grosso e tu col medico? Entra col medico, non è. C'è morto tanto. Io sono comunque medico, eh. Cioè, sono comunque grosso. A me mi chiede l'appia, tipo, proprio così. Ma io sto facendo il medico, è che fai grosso. Dai, esci fuori, veloce. Dai, poi mi fa un maure. Non è sexy, porca la pavella. Avresti bisogno del vaccinatore, lo sai. Non è sexy, porca la pavella. È una striglia pronta a tirare. Quindi, devo stare sempre in movimento. No, aspetta, kill il cecchino. Non ci sta. Ok, che c'è una spia volante là che si sta travestita. Mi vergogno di me stesso. Sto uccidendo la gente con il nero. Cura Milore. Che fai l'ubert... Carica. Attenzione. Attenzione. Ah, un colpo di lanko ce la metto. Aspia. Kill la roba. Morta. Morta. Ce la fai entrare? Sperdi, non farla scoprire. Spia? Spia? No, ma erano più munizioni. Un fu tutto medico che cura un altro fu tutto medico. Medico è la strada. Un medico è la strada. Un medico è la strada. Vai via! Corri! Ammazza la mo di padella qua. Ammo di padella, proprio. Io direi di andare colpino con il... Andare via trombetta. Ah, sbloccata! Sì, 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 lo sbloccato fucile da Giacchera dopo miliardi di anni. Lo scaldateste del saccacacchio. Oh, lo scaldateste è almeno inutile anche in casa. Mamma mia che cosa figa! Eh, mi ha ucciso uno scout di pazito, sì. Cioè, manco spaurare, manco farmi sparare un colpo, no. Attento l'area. C'è uno scout nella base, non hai capito? E secondo te perché mi sono travestita da loro? E sei diventato invisibile. C'hai un cappuccio! In teoria. C'hai il cappuccio del prestigiatore! E ce l'hai a livello... Vabbè. In che senso io ho il cappuccio da prestigiatore? Tanto per sapere. Destroi! Parla! Parla! Ti ho visto nei suoi agenti c'era un cappuccio da prestigiatore furtissimo. C'è, ma dai, ma che arma... Ma c'è il fucile principale, io non riesco a ucciderli! Perché sono così forti loro? Perché loro si spavano. In girante comunque furtissimo. Mi fanno partire come se fossi... Domenicamente è restato nel domenicamente. Ok, quindi molto probabilmente uno sarà nei blu e uno sarà nei rossi minimo. No, no, no! Uno di loro deve venire da noi, sicuramente. Il dedo si continua a registrare fino alla sconfitta definitiva. Tanto a quanti minuti siamo, in teoria? 5 minuti siamo, in qualche minuto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Razzurando, razzurando, altro razzurando. C'è nella loro base e fa gli accro. Il universo. Quanto cazzo mi ha fatto volare con i cazzi di scout? Capito Destro Mi fanno sentire l'automobile se non rimando solo L'ho inciso mentre volava Mi sa che ho fatto l'archivement L'archivement overpaw Alla te posso L'archivement il latte di cocco è sempre più buono Perché? Non ha senso Perché di codella cosa? Sì che lui ha detto cosa Che lei ha detto cosa E che poi io le ho detto di cosare quel coso Ci siamo capiti vero? Sì perché giustamente Senti il coso deve essere cosato no? Non lo cosa nessuno Se non lo cosa nessuno Poi si Si ne almera cosa Dive Xio stai salendo Xio stai salendo vero? Li trollo adesso Li trollo tutti Bella non la controllo nessuno Il colpo di l'archive assoluto Che solo la maggiore Non lo so come è fatta la gara così tanto Madone Non lo so come è fatta la gara così tanto Perché l'hanno chilata così facilmente? Non chilare il medico ma lo so Medico curami Perché c'è un medico che cura l'altro medico che non cura me? Presta arma non fa one shot Un medico che cura un altro medico è qualcosa di insuperabile no? Sì perché fallo Ma non c'è Devo cecchinare come un cecchino per favore di code È impossibile usare la spira E' asserma Asserma è bellissima e forte E' pure silenziata però E' improponibile perché non fa one shot Ma è improponibile anche usare la spira a lei quando non ci sono camper Ci devono essere camper Oh critical madonna Che headshot Stai usando il cecchino vero? In teoria Sì Da quando è iniziata la partita non sono mai morto Sì ma c'è uno killa Anche io ti seguo Occhio stiamo Attaccati al muro così almeno la schiena non ci fai Cazzo Cazzo sto per killarlo Ecco presumerico finisilo tu fa Sembra che è l'Uber carica Oh l'Uber carica Oh l'Uber carica Sicuramente Sicuramente C'è ma quant'è chi l'ho fatto? 11 Sono rimasto solo No No Oh già che forte starma Sì aiutami Attenzione ti vuole in testa È uscito fuori dalla mappa No Perché mi si è spawnata accanto? Non ti è spawnata accanto È volato via e ti è andato da dietro Io ti stavo per avvertire ma non ti volevo far prendere infarti Sì quando mi diceva così Occhio dietro Occhio dietro Micà non lo dici infarti di fila Deve arrivare Gesù Cristo insieme a ciò che non risperia di male Insieme a ciò che non rispoi Così c'è l'aria di animazione sicura Esso può C'è una spia qua intorno Ci ho fatto di bondici Di fila Sì perché non ho fatto chili One shot Tutti alla testa poi Critica la testa Con le mie prestazioni da cerchino potrei essere in grado di abbattere un bisonte Devo salire sopra perché non trovo nulla Perché c'è un tipo Quel tipo si è fermo Quel tipo si è fermo Non lo puoi killare È bagatissimo Non è bagatissimo Non è bagatissimo Puoi killarlo È bagato Ora sono blu No non voglio starci nei blu No voglio andare nei rossi Voglio andare nei rossi Mamma Mamma non ti ha Non ti ha Voluto dare Voluto dare Una mano Vabbè Cioè adesso io vorrei Vorrei capire il motivo Di tutto questo Dio santissimo Alleluia L'hanno ucciso Sermate Perché c'è un tipo che impugna La stella di Natale Non è possibile Vabbè Vabbè Ma tu sei ancora Perché non torni Nibus Ma cosa sei spia? Ma cosa sei spia? Ah grosso Cioè magari Come tu che sei fermando lo spawn Perché qua non passa più nessuno Da quando sono col cecchino Sto mirando da tipo tre anni Mi sa che vado su? Mi sa che vado su? Lo sapevo Lo sapevo Dai spawnati dai facciamo una sfida Io macchetta e tu Macchetta e tu Macchetta e tu Dove sei? Dove sei? Dove io sa So dove sono posto Vestirei Dai dimmi dove sei Dai dimmi dove sei Guerra tra il gigante Guerra tra il gigante Che infame Chi poteva essere uno Che si dirigeva verso di me Con l'intento di uccidermi Della mia squadra Se non tu E chi è che sblocca la bestia d'ottone? E chi è che sblocca la bestia d'ottone? E' forte Di che cos'è? E' forte Di che cos'è? E' fortissima Madonna Mi fortissima Vabbè io ho sblocato l'arma del cerchino E sono contenta Poi la voglio vedere nel video Che figata La bestia d'ottone Ma cos'è quella specie di drago? No E' nata da overpugua Stiga overpugua Guarda adesso te la faccio Però ti conosco Se ti avvicini a me Come cosa della mia squadra Sei cazze nemico Non passa nessuno qua Non passa nessuno qua Ci sono i medici Che si fanno la bestia da soli Non è possibile Intanto sul tetto Intanto sul tetto C'è se lo stiamo armate Ehm E' mortale sermati E' mortale sermati Però E' il più forte della squadra E' il più forte della squadra Ha fatto 49 kg Vabbè Sir Lawler stava parlando con sermati No sense No sense Ho mancato sir Ho mancato sir Ho mancato sir Ho mancato sir Il sir Immortale sermati Immortale sermati Però non perde manco da anni L'avete visto tutti C'era questo segrac con il pirulino alla mano L'avete visto tutti Tutti l'avete visto Io sono l'unico pervertito Tutti l'avete visto Lo dovete Lo dovete Cosa C'era una spiagata Aveva lo spilungone Con una specie di lago lunghissimo Messo dove ci dovrebbe stare il pistolino E ce l'avete in mano L'avete visto tutti Non sono io l'unico pervertito Perché banana power ha detto no A cosa Peralt 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 P Raw Si automobili Si so Cosa Peralt E' quasi Peralt Si so E' mi Fa Destroi Destroi non sei morto, vero? Non devo venire a tatuare e animarti, vero? Destroi Quindi, dopo la morte di Destroi Credo che per oggi sia tutto E ci vediamo in un prossimo video Se non siete iscriviti, iscrivetevi Lasciate un mi piace, un commento E iscrivetevi al canale se non siete iscritti Che l'ho ripetuto due volte Se non volete ripetere due volte E con questo 360 la spia Vi saluto, ciao! Bella ragazza